Cari amici, benvenuti al programma delle scuole ambasciatrici del Parlamento Europeo. Sono molto felice di dire qualche parola a tutti voi, giovani cittadini europei, che partecipate a questo programma così importante, che vi permette di interessarvi, di impegnarvi attivamente nella vita dell'Unione Europea. Creare un punto di contatto tra l'Unione Europea e voi, ragazze e ragazzi, consente di accorciare quelle distanze che spesso ci fanno vedere l'Europa come un'entità stratta, lontana, ma non è così. L'Europa è lì per voi, il suo ruolo, la sua organizzazione, il suo posto nel mondo sono elementi essenziali del vostro futuro. E oggi più che mai è essenziale che voi siate parte attiva del processo democratico e quale migliore occasione se non questa iniziativa che mira a coinvolgere studenti, insegnanti, scuole, comunità per favorire scambi, confronto con i vostri coetanei, con il mondo degli adulti, con i parlamentari europei che si trovano in altri paesi e tutto questo per costruire ponti, legami e quel senso di comunità europea di cui abbiamo tanto bisogno. L'Europa si costruisce grazie ai suoi cittadini. L'impegno che dimostrate fin da ora è un segnale chiaro dell'importanza che attribuite al progetto europeo. Abbiamo bisogno di un'Europa che sia sempre più protagonista. Io sono molto fiducioso perché voi giovani siete sensibili ai temi della democrazia parlamentare, ai valori dell'Unione europea. Portare un po' di Europa nelle vostre scuole organizzando eventi, dibattiti è importante. È importante per ampliare quella consapevolezza di essere cittadini europei. Sono felice di rivedere che più di 1650 scuole fanno parte già di questo programma, di questa rete paneuropea, ma potrebbero essere anche molte di più. Non dobbiamo fermarci. Dovete e volete essere sempre più protagonisti e ce lo dimostrate quotidianamente con il vostro desiderio di viaggiare, di scoprire, con il vostro interesse, la vostra curiosità nell'Europa. Questo perché siete consapevoli del fatto che le decisioni prese dal Parlamento europeo avranno un'influenza diretta, concreta, sulla vostra vita. Grazie a voi questo programma è una realtà, ma vorrei ringraziare anche tutti gli insegnanti che con entusiasmo lavorano per portare l'Unione europea in classe.